Per sfidare le contraddizioni è necessario e fondamentale un percorso di consapevolezza e in Andriani abbiamo iniziato questo percorso internamente e esternamente attraverso un grande cappello che si chiama Andriani Educational. Attraverso Andriani Educational noi abbiamo sponsorizzato dei percorsi su un'alimentazione più sostenibile, sulla sostenibilità a 360 gradi, sui percorsi che riguardano i disturbi del comportamento alimentare, su percorsi di PCTO, aprendo le porte della nostra azienda alle scolaresche, agli studenti di ogni ordine e grado. Quest'anno abbiamo aggiunto una sfida, ovvero forniremo a tutti i nostri stakeholder forniremo a tutti i nostri stakeholder uno strumento che è un po' una cassettina degli attrezzi per chi vuole avvicinarsi a questo grande tema della sostenibilità o chi è già un professionista della sostenibilità o chi si sente agente del cambiamento. È un glossario della sostenibilità che racchiude 106 definizioni e la sfida più grande è stata creare una mappa concettuale della sostenibilità dove queste definizioni si intersecano e quindi il percorso diventa molto più interattivo. Ne abbiamo creato anche una versione digitale scaricabile attraverso QR code in modo tale da condividere proprio con tutti questo lavoro e questo grande viaggio verso questi temi appassionanti.